Pechino Giovanili del 2020 sono stati assegnati invece a Lausanna che ha battuto la città romena di Brazov. Durante le votazioni non sono mancati contrattempi, il sistema di voto è saltato forse a causa del violento temporale abbattutosi sulla località della Malesia e la scelta della città destinata a ospitare è slittata di qualche ora. I membri del CIO sono stati obbligati a votare a mano. Pechino da questo momento è la capitale del ghiaccio e della neve. Grazie a tutti!